Ciao a tutti e a tutti Allora 100.000 iscritti 100.000 100.000 persone Siccome La storia di fare degli speciali Per me è un po' nel senso che io dovrei Proporvi dei contenuti speciali sempre Ho deciso di proporvi Le due persone sul web con cui mi shippate Di più al mondo Metterle alla prova in una sfida Oggi qui allora ci sono cinque domande Su di me per testare chi dei due Mi conosce meglio ovviamente lui è Alberico Yes Lui è Michele Bravi Lui l'avete già visto sul mio canale lui no I link dei canali li trovate qui sotto Dovete prepararvi un verso Per prenotarvi Ok quindi io faccio la domanda e il primo che fa il verso può rispondere Mu Oddio La mia fantasia mi fa schifo Vai beh Mu e beh Mu Che cosa è che sguagliala Quindi abbiamo Sofie e le bs Che? Le fia Facciamo di sì Allora prima domanda Ma quindi faccio il verso Ah mi chiesto il verso le due che è più veloce Si che è più veloce può rispondere per primo Poi tanto probabilmente la prima domanda non la sapete perché Insomma Eh lo dici te Ok vai Quando sono nata Ieri Tu sei già squalificata Non sei un fidanzato degno di esserlo Non lo so Dai hai una possibilità Però non ho fatto il verso eh Ah mu Ieri Boh non lo so E se a me c'è la faccia di uno che è nata in inverno Giorno Mese Spara Cioè vi rendete conto Io Dai spara Ottobre 98 Quello sono io E sei d'ottobre Ah ecco Eh beh beh Quello sono io Ma è bocottato così 11 maggio Inverno proprio Inverno 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 Insomma ci siamo Qua nessuno ha preso il punto però Comunque seconda domanda Eh qual è? Pronti Ah giusto vero Qual è? Qual è? Il mio colore preferito Ah Vai Cos'era quel bezzo? È vero la becca assassina Cos'era? Ehm Alla becca era la becca Alla becca è vero Ehm Qual era la domanda? Qual è il mio colore preferito? Vediamo Blu Eeeeeee Grandissima Vai Posso farli verso Vai Igualmente Muuu Vai dillo Mi piace Ah volevi fare il verso? Si solo verso Certo Normalissimo Comunque se diciamo che sono blu e verde però Vabbè Lo stavo pensando Cazzo Perché ce n'è un po' addosso e ce n'è un po' qua Quindi tu hai visto un po' il verso Ehm È stato ispirato dal coraggio Eh Terza domanda Forse un po' banale ma Eh Aspetta Non è scontatissima Qual è Muu Rispondi Qual è Maia Qual è il giorno della settimana che odio di più? Lunedì Non ho sempre notato A parte di no Muu Domenica Davvero Vaffanculo Cioè vabbè ma che culo È asseccata non lo sapevi? No Insomma siamo due a zero per cantare Perché domenica sta a casa di domenica Questa Devo vincere io Il giorno dopo io ho scuola Devo vincere io Mi mette nell'angoscia la domenica Io ho anche io la domenica Allora questa è facilissima Qual è il mio cibo preferito? Panini del McDonald Non fai verso Muu Muu Comunque no Ehm Se si indovinano questo ho vinto? Eh mi pare Però comunque si continuo Aspetta Ci devo pensare un attimo Pizza No Le l'abbiamo offerta prima Non l'ha voluta Quindi no Muu Sushi No Sushi Cioè era Era semplicissimo No ha ragione E non proprio Ok In realtà è l'ultima domanda Quindi hai già vinto Quindi hai già vinto Quindi hai già vinto No no si può andare in parità Selina Dove andare in parità Vabbè Facciamo che questa domanda Vale due punti Ah ecco Ok e se fate pari Faccio una domanda disparita E se vince lui? Se vince lui ha vinto Mi ho stracciato schifosamente Mi ho stracciato schifosamente Ci sono destinata a stare con lui Beh c'è un laghetto qua vicino Dovrebbe fare un tuffo Vai allora Preferisco Eh Borse o zaini? Ehm Buh Zaini Zaini per forza Anch'io solo per dire zaini È ovvio Ehm Anch'io l'abbiamo detto zaini Ma è ovvio che sei stato Miseramente Ma era ovvio che era zaini Miseramente sconfitto Tu non sei una tipa da borsa Non sei quella piccosa Ma a parte che Potevo confondere perché in realtà Ho diventato con la borsa Unica volta nella vita Tipo Vabbè In ogni caso Ho vinto io No Sofie Chiamilo poi si vince prima Hai vinto il tuffo nel lago Hai vinto Di testa Di testa Vabbè Vabbè ha vinto Sofiele quindi Ehm Com'è felice No Quindi niente Noi vi mandiamo Un grandissimo bacio Mettete un pollice in su a questo video Se vi sono piaciuti E commentate qui sotto Quella ship che in realtà voi preferivate Non condividetelo Ho perso raga No no Invece condividete questo video No no ho perso raga Non è giusto raga no Della sorpitta di alberico Inchiacciante No No Ehm Ehm Se la condividete Io non Io non faccio più video Noi vi mandiamo un grosso bacio E ci vediamo al prossimo video Nessuno l'ha detto Solo io Ehm Perché il tuo canale è tuo Vaffanculo Dopodina Vaffanculo Vaffanculo Vaffanculo